Il nanetto che voleva una pera. Un giorno, un nanetto che si chiamava Alessio voleva fare una passeggiata perché sapeva che nel prato vicino a tre montagne c'era un meraviglioso, grandissimo e altissimo albero pieno di pere. Il nanetto però era piccolo e basso e allora non poteva prendere neanche una pera. Il vento lo sentì e decise di aiutarlo. Soffiò ma non riuscì a far cadere nemmeno una pera. Così il nanetto non riuscì a prenderle. Poi un uccellino lo venne ad aiutare. Con il suo becco si mise a beccare alcune di quelle pere e le fece cadere. Il nanetto fu molto contento e per ringraziare l'uccellino gli diede alcune di quelle pere. Grazie. Grazie.